Vorrei un goccio anch'io, chissà, magari... Sapete, questo va contro tutto quello che mi hanno insegnato in materia di salute. Vuoi vincere o no? Alla salute! Allora, facciamogli vedere chi è di un altro pianeta, eh? Ci state? Siete pronti? Andiamo! Permetti? Così non vale! Consegna esplastra! Ottimo Kaboom, Willy! Diamogli una lezione! Passa, passa, sono sbargato, sbrigati! Che bel culetto! Marcalo! Non farlo tirare! Tira, io salgo, Lani! Dammi il cinque! Allora, una piccola sorpresa per voi, mesi amici! Due punti? No! Oh, questa fa al cazzo mio! Ciao, uccellino! Ehm... Ho.. Heiho! TempETA! TEMPETA! O... O... Grazie a tutti.